buongiorno fanny buongiorno amico mio venite sedete qua come state oggi vi vedo bene questo clima o questo per voi è un autografo di alfieri come lo avete avuto l'ho chiesto per voi viene dalla svizzera preziosissimo giacomo io non so come ringraziarvi sono io che devo ringraziarvi perché per aver passato la serata con antonio li ha fatto bene l'avete più rivisto da quella sera no è sparito al suo solito ma ci rivedremo tutti quanti da charlotte buonaparte il prossimo sabato è così è messo sotto sopra mezza firenze pur di avervi ospite magari verrà perché non dovreste venire perché la mia vita è sempre stata estremamente solitaria e nelle conversazioni poi per dirla all'inglese sono più absent di quanto non lo sia un cieco o un sordo e questo vizio mio dell'absence è incorreggibile e disperato è che non vi va di parlare ma nessuno dice cose più interessanti di voi no no fidatevi che come vi dico io se se volete persuadervi della mia bestialità chiedete pure a giordani al quale do piena licenza di dirvi tutto il male che merito che che è la verità io invece solo bene potrei dire di voi